Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e in questo nuovo video sono tornato su Crash Bandicoot E devo ricordarmi cosa ho fatto l'ultima volta Ah ok, perché non registro da tanto tempo questo Crash Bandicoot Allora, un 13 Sì, ho preso 14 Monna no Lo odio questo livello Questo livello con le moto lo odio, lo detesto ragazzi E lezzo, puzza, sudicio Marcio 3, 2, via Mamma mia che partenza Ehm, sì Tutto molto bello No, lo odio questo livello Non li voglio fare questi livelli così Non li voglio fare Cazzo fai Non dovevi fare il salto Non ci serve a niente per il salto, perdiamo solo tempo Sì, non prendiamo le scatole, raga, perché Non perlengermi tutti i voglioni Gira Oh Madonna No, no Ha saltato Cioè, come cazzo ho fatto Dai, ho guadagnato una vita? No Non ho preso nessun frutto Wumpa Cioè, due frutti Wumpa e guadagno una vita No, ho schiacciato il freno erroramente Dai, un altro frutto Wumpa e guadagno una vita Giusto Per completare il tutto Ok Una vita, vai Non ho preso il turbo Che coglione che sono Che coglione che sono No, no, no Paura No, no, no No Bravo Bravissimo Così Ora frena Gira Bravo Ok, accelera Accelera Che qua Ce la stanno mettendo nel culo, raga Ce la stanno mettendo nel culo Eh, però mi ricordo che ce n'era un altro ancora Sempre con le mucle Però dove le macchine camminavano Le macchine da polizia camminavano Sì, ragazzi È una cosa bruttissima questo livello Voi non potete mai capire Se non ci giocate non potete capire Ok Vai Vai Vai, che è quasi finito Dai, non fare stronzate Non fare stronzate No Non fare stronzate Ho detto Allora Siamo qui Ho finito Sì Wow Non so come cazzo ce l'ho fatta Ma ce l'ho fatta Non lo so nemmeno io, ragazzi Non lo so nemmeno io Oh, madonna Sì, è vero Va a 30 fps in gioco Sì, però Io sto registrando A me non lagga Non lo so perché Dopo la registrazione lagga Cioè, non lo so Vai, double hit Questa, questa è facile Questa è facile, dai Non potete dirmi che non sia facile Sì, non voglio vederti Non voglio vederti Sei brutto Sei brutto Vai, combina Uh, come piume Che cazzo sono sti così? Oddio Che cos'è? Oddio, paura Oddio Oddio Madonna, quanto è brutto Ma cos'era quel cuglio Vabbè, quali sono le tessonzate Uno Due Oh Non ho preso la scatola Ma cosa cazzo è? Ma cosa è? Io passo di qua, guarda Questo livello si può saltare Passo di qua Cioè, guarda Oddio Questo è brutto Ecco, è morto È morto E muore Se ne va E se ne va Sì No No Oh, ho fatto esplodere tutto Ma sì, dai Così Vai Bravissimo Uh Allora, questo Questo spacchiamo solo le scatole Non serve a niente Aspetta, ma stavo una vita lì Oddio, stavo una vita E me ne dimentico No Stanno le cose che si illumina qua Ok Boh, l'ho voluto lanciare Dentro la casa Uh Un mago Un mago merlino No Non mi farei stronzo Bravo Mi hai fatto perdere Una qua Come hai fatto perdere Stronzo 30 fps Perché va a 30 fps Cioè, io nel gioco Non laggo Perché durante il video Poi si vede laggoso Sì, va bene Hai ragione Sì, va bene Mi faccio il culo Bravo Mamma mia Che mostro Andiamo qua E gira E gira Escono pure i lampi Mamma mia Che effetti Non li possiamo vedere più Questi effetti Noi nei nuovi giochi Non li possiamo vedere più Allora Sì Di qua Ok Buttiamoci Giusto Giusto per completare Il tutto all'opera Il tutto all'opera Che cazzo ho detto No Oh Va lì Ok Oh Bello Proprio Bello Questo non c'è in area No Ora ci conviene fare Queste stronzale qua Ok Ora bisogna tornare E bisogna fare Il tutto Che cazzo è successo Che cazzo è successo Non mi sono accorto Allora Dobbiamo rifare il livello Bonus Ma che cazzo Ma che cazzo No Vabbè Ma perché va stronzate Perché va queste stronzate Stronzate Uh Uccellini stanno pure Che belli No C'è bugato Ecco qua Sì vai Ah Bello Bello Provo fresco Ah Oddio Non fare stronzate Wee Ok Oh E si cade giù Bravo Allora qua Bisogna prenderlo Prima tutti Ecco Ok Ora si può distruggere Sempre tutto Motto Ho rischiato di esplodere Vabbè dai Li facciamo esplodere Giusto per Completare tutto il meglio No Non fare E io che avevo Scacciato la B Per fare la scaccia E non Perdere così Non perdere così Non perdere così Non perdere così Non farmi se stronzate Dai Non posso fare se stronzate E cammina Perché faccio queste stronzate Perché faccio queste stronzate Ma è sempre lo stesso Ma è sempre lo stesso livello bonus Del primo livello Della prima puntata Cioè è uno scenario Sembra lo stesso Sì Oh Oh No io devo premere A forte il tasto qua Sì Bravo Bravo No Sì Sì No Ah Sì No Mamma mia Così si faceva Ho capito Allora E me lo dite solo ora Me lo dite Cioè me lo dicono solo ora Vai Aspetta Questa scatola la voglio distruggere Però Ah no no 28 su 30 Cos'ho dimenticato Dimenticato le scatole Ah ecco è qua Le due scatole Ah quindi le TNT si contano come scatole 30 ok Sali Vai Ho completato tutte le 30 scatole di questo livello bonus Dopo non so quanti minuti Ma ce l'ho fatta Eh Sì Va bene Tutto molto bello Andiamo qua Sì Eh Ok Va bene Bellissimo Vai Vai di qua C'è Così almeno mi sono salvato il culo Facendo c'è Ho paura di questo Ho paura E' brutto E' enorme Morissero tutti questi qua Uh Ho preso Ho preso Questa Ah Ah Allo Oddio Ah poi abbiamo il livello brutto Ah ma è quasi finito Oddio ma che cazzo Oddio Oddio santo Perché Perché Non voglio essere più toccato da quello Come dovevo passare lì Come dovevo passare lì Ma che cazzo Oh Oh Vai Come devo passare qua Oddio no Qua c'è la rana E se passo di qua Dei lati Si potrebbe fare Tutto buggato Ma ce l'ho fatta No non ho preso Tutte le scatole Due me ne mancano Che coglione No 88 89 90 Tre scatole Mi sono mancate Ok ora dobbiamo fare il livello più brutto di tutti No vabbè Uno dei più brutti Eh non è che sia tanto facile Come non è tanto difficile Guarda Dipende dalle botte di culo Che ti capitano Neutrufi Si chiama Neutrufi Questo qua Si clicchiamo Perché non voglio vedere il video Non mi interessa Perché è brutto Troppo brutto Troppo brutto Eh Si adesso mi farà il culo Ecco guardate l'animazione 3D Mamma mia E si gira pure Guarda Si è ragione Si è ragione Si è senza Ah ecco Allora Si dovrei saltarmi Ok Si Si Fino a qua ci siamo Si Ok guarda mo Guarda tutto Guarda che succede Allora Ora dovrei cercare di andare E ucciderlo Prima che Non esca il tempo Ok E fino a qua ci siamo Vedi dalle botte di culo Dipende Ah è molto più difficile Però Perché Allora Si Questo qua invece è basso Mi devo abbassare Ok Poi invece qua abbiamo Si 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 Ok Bene Ecco però di solito lo faccio anche dall'altra parte Cioè Adesso Adesso dipende di essere bravo Ok Fino qua ci siamo Ora invece è più brutto Perché ora è più difficile Molto più difficile Ecco Ecco vedi Non ho capito che questa è in alto Un bacco Madonna No che cosa è successo Non sono venuto io che cosa cazzo sto facendo Dio Si Dai che ci dobbiamo essere Dai Dai Ok Ok se tutto va bene Non cado adesso con un coglione Che cazzo Perché No No Non si può fare con l'analogico Questo livello Con le fregge Con le fregge Io lo sapevo che cadiva No che palle Che palle No Madonna Speriamo che E' appunto che mi vada bene Perché vedi qua è tutto dritto adesso Perché può capitare che E sia storto Il livello Le pedane Quindi deve stare la bravura Del 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 giocatore Allora questo Si fa in alto Questo invece ti abbassi Ok Ok ora farai questo Ok ora farai questo Vai Oppè Guarda che ti faccio il culo E ora Che farai Si Ehm Vai Vai E more Fino qua ci siamo Però il problema È il finale Il finale di merda Che Si Mi attende Allora qua si alza Qua invece ti abbassi Qua invece ti alzi Ok E ora Sono queste stronzate qui Le stronzate qui Quest'altra stronzata qui Quest'altra stronzata qui Quest'altra stronzata qui E ora Ehm Si Dai che c'ho poco tempo Si Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E questo è stato più facile Rispetto a tutti quanti C'è Ok Prendiamo questo Ehm Si Ok Rispetto a tutti Questo è stato il più facile Ok finiamo Terminiamo qui Anche questa puntata Non voglio vederti Non voglio vederti Non voglio vederti Non voglio vederti Mi sono rimaste solo due arene Ce la farò Ce la farò Lo scopriremo Nella prossima puntata Vai Non fare il coglione Andiamo Cammina Ehm Si Andiamo qua Salviamo Beh Questo video è tutto Ricordatevi di lasciare un'iscrizione E ciao a tutti ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti Grazie.